Anche a Palma di Montechiaro si parla della tua storia semplicemente meravigliosa e favolosa. Cosa rappresenta per te quest'altro evento? Guarda, è un momento importante nell'agrigentino rappresentare l'arte della salvezza scritta da Carmelo Saldo e ci porta ancora una volta a arricchire la storia degli angeli. Parma è la terra di Gattopaldo dove tanti amici in comune come il sintaco Castellino, l'assessore Lauricella, tanti amici e ripartendo la tappa siciliana non poteva mancare di fermarsi nella città di Gattopaldo come Parma. Quindi insieme con Carmelo Saldo stiamo portando progetti importanti oltre Parma ma in tutta la Sicilia da ogni parte anche d'Italia. Quindi l'arte della salvezza c'è sempre qualcosa da scoprire, non solo leggere ma di ammirare la storia con gli angeli. La tua storia che piace tantissimo anche ai bambini, ai giovani studenti. Sì, infatti stiamo portando un progetto importante con le scuole perché i bambini capiscono cosa significa il riscatto del bulismo e soprattutto la voglia di non sbagliare e di non fare sbagliare gli altri. Cos'è? La vera rinascita di un riscatto. Cosa c'è nel tuo futuro artistico? Ma stiamo lavorando con importanti progetti, già sono stato a Dubai per lavoro e adesso si sta incrementando con le gallerie importanti. Un progetto importante per l'arte contemporanea, non manca altro che uscire ma la Sicilia resterà sempre nel mio cuore. Tornare a Palma di Montecaro per me è sempre un immenso piacere. Sono legato a questa cittadina sia per i risvolti professionali, perché qui sono tornato molte volte lungo la mia carriera, sia per le amicizie che coltivo. E sono veramente stato molto molto contento di poter parlare del mio ultimo libro, l'arte della salvezza, in questo scenario incantevole che è il Palazzo Ducale dei Gattopardi. Grazie, del Gattopardo, grazie all'iniziativa del sindaco Stefano Castellino, dell'assessore Salvatore Lauricella, un giovane e dinamico assessore, persone che ringrazio perché hanno capito che attraverso la cultura, perdonate la banalità della retorica, attraverso la cultura partono una serie di riscatti, come nella storia appunto di Mark Hart, la storia favolosa di Mark Hart, che ho voluto raccontare in questo libro, che mi sta dando delle enormi soddisfazioni, perché vedo che sono soprattutto i giovani, come anche oggi a Palma di Montechiaro, a restare affascinati e incantati da questa storia di riscatto, da una storia che parte come storia di bullismo e che arriva a un percorso di resipiscenza e di grande riscatto di un ragazzo che oggi si è affermato come un grande artista, e le sue opere sono contese dai più grandi collezionisti d'arte italiane. Io sono molto legato a Mark, sono molto legato da un grande rapporto di amicizia, perché a me quello che interessava era raccontare come da un percorso così complicato e tortuoso si possa oggi diventare una persona che ha meritato, non dimentichiamolo, la cittadinanza benemerita del suo paese, Favara. Incontro con l'autore a Palma di Montechiaro è presente Carmelo Sardo, il suo libro L'arte della salvezza, che parla della storia favolosa di Mark Hart. Come nasce questo evento? Questo evento nasce naturalmente conoscendo Mark Hart personalmente, che è una persona meravigliosa con un cuore immenso. Naturalmente questo è anche voluto da parte di tutta l'amministrazione, perché descrive la storia, appunto come dicevi, una storia favolosa, di un ragazzo che viene bullizzato, deriso da bambino e poi viene riscoperto un artista da diversi critici d'arte e da collezionisti. Quindi questo vuole far capire anche a tutta la popolazione, a tutta la comunità, che il ragazzo che viene deriso, viene bullizzato e quindi la diversità è essa stessa, la specialità, la caratteristica di ogni singolo soggetto e che quindi deve essere apprezzato il cuore e non le fattezze fisiche. Cos'altro rappresenta questo evento per Palma di Montechiaro? Questo evento rappresenta per Palma di Montechiaro anche la rivendicazione di tutti coloro che naturalmente si trovano in questa situazione, che non devono soffermarsi soltanto nell'aspetto fisico e quindi devono andare avanti con le proprie capacità, con le proprie specialità. Grazie.